Ben arrivato a Pescara, Luca, allora prime sensazioni? Sensazioni positive, ho avuto modo di conoscere la proprietà, l'allenatore, quindi ho subito ottime sensazioni. Simpatico anche lei, Presidente, ti ho visto ridere durante la conferenza stampa. Sicuramente è una conferenza stampa divertente, riesce a sdrammatizzare su cose, su domande, su argomenti che tante volte potrebbero turbare, quindi è un grosso vantaggio che hanno a sapere gestire queste situazioni. Tu sei il colpo del mercato del Pescara, responsabilità dal tuo punto di vista oppure sei abituato a viverle? Colpo, non colpo, questo non lo so, penso che siamo giocatori all'interno di una squadra, di una rosa, abbiamo tutte uguali responsabilità, uguali doveri e quello di dare il massimo, quindi sicuramente io cercherò in questo senso di non far mancare nulla, ai tifosi del Pescara, come ho sempre fatto. Come stai? Qualche problemino fisico però, diciamo che tra una settimana dovresti rientrare nel gruppo? Sì, purtroppo ho avuto un problemino durante la preparazione del Chievo, ho fatto tutto il ritiro, mi sono fermato gli ultimi 15 giorni, sto lavorando per trovare la condizione migliore, risolvo questo problema. Oggi farò il punto della situazione con i medici del Pescara e poi vedremo come programmare la prossima settimana. Per chiudere, tu sei uno specializzato in promozione, ne hai ottenute parecchie, soprattutto dalla BLA, di buon auspicio. Beh, sicuramente sono tre promozioni dalla BLA in tre città diverse, in tre squadre diverse, sono il mio orgoglio perché comunque è bello vincere i campionati e poi poter giocare la Serie A l'anno dopo con la stessa squadra. Ecco, io ho come obiettivo di vincere ancora un altro perché arrivare a quattro promozioni in Serie A saremo veramente in pochi e quindi insomma mi auguro che questo Pescara possa poter realizzare il mio sogno.